Sensibilizzare i giovani sul tema della legalità responsabile e sviluppare una cittadinanza consapevole con l'intenzione di promuovere l'avvicinamento alle istituzioni nel rispetto delle regole e dei valori della solidarietà e del coraggio. Con queste finalità la Questura di Lecce in collaborazione con l'Ufficio Territoriale Scolastico, le Associazioni Libera Nomeni, le Fondazioni Don Tonino Bello e Stefano Fumarolo e il Teatro Pubblico Pugliese ha realizzato il progetto di refare cambiare i ragazzi, la memoria e l'impegno che si rivolge in particolar modo ai giovani con eventi ed esperienze formative che valorizzano l'educazione alla convivenza civile. È necessario assolutamente coltivare la memoria, coltivare la memoria in un periodo storico terribile, quello degli anni 80-90 dove la mafia ha esercitato la parte più potente della sua storia con delle stragi, con tanti uomini delle istituzioni che di fatto hanno perso la vita per garantirci un futuro sereno. È un momento particolare della nostra storia, le democrazie hanno sempre bisogno di alimentarsi, alimentare il proprio coraggio e riunirsi, ci sono dei passaggi molto belli dove i giovani ci insegnano che stare insieme è sicuramente il modo migliore per affrontare civilmente la Costituzione e rispettare la nostra Costituzione. Cominciare dai ragazzini ad insegnare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, significa prenderci la responsabilità delle nostre azioni, non delegare gli altri soprattutto. Viviamo in un mondo dove sia legale è intermittenza, se mi conviene sono legale, se non mi conviene non sono legale. Significa insegnare che la vita è anche bella perché c'è una reputazione che ci portiamo dietro ed è una grande eredità. Primo appuntamento al teatro Il Cavallino Bianco di Galatina e il 23 gennaio al Teatro Italia di Galdipoli. L'11 e 12 marzo presso il Teatro Pollo di Lecce andrà invece in scena lo spettacolo teatrale Emanuela Loy, la ragazza della scorta di Borsellino. Infine il 5 luglio a Lecce in Piazza Duomo ci sarà una manifestazione musicale in ricordo dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio.